Tavia 1 TV, la TV per tutti. Una buona giornata alla provincia di Pavia all'ascolto, giovedì 13 maggio, oggi una puntata speciale della Voce Pavese per parlare di una notizia triste. Oggi l'oltrepo Pavese si è svediato più povero perché ha detto addio a Luigi Panigazzi, spentosi ieri all'età di 96 anni, 96 anni d'amore per l'oltrepo, come riporta anche il nostro titolo di oggi. Io do il benvenuto a Nicola Fronti, consigliere provinciale e capogruppo dell'Unione di Centro del Comune di Voghera. Lui e la sua famiglia, adesso tra l'altro vedremo nel corso della puntata, hanno molti ricordi che legano a questa figura che rimarrà indimenticata e quindi io ho raggiunto Nicola Fronti questa mattina e ha voluto anche lui essere con noi per portare il suo ricordo. Anzitutto grazie di essere con noi Nicola. Grazie a voi, è un piacere per me esserci e ricordare una persona come Gigino perché per tutti non era il senatore Panigazzi, il dottor Panigazzi era Gigino. Era una persona che era legata al nostro territorio e il territorio che amava e che lo ha servito. Allora aveva 96 anni, l'abbiamo detto in apertura, è stato medico, ex partigiano in Oltrepo, presidente della provincia di Pavia, consigliere provinciale, sindaco di Val di Nizza negli anni 60 e senatore della Repubblica dall'83 all'87 per il Partito Socialista Italiano. Un paladino dell'Oltrepo Pavese che ha speso la vita per la sua terra e la sua gente e a lui e al fratello si deve negli anni 80, a cavallo dell'84, un recupero interamente autofinanziato del castello di Oramala, divenuto poi un fiore all'occhiello delle nostre colline e che ha dato una spinta molto forte al turismo e alle gite culturali in Oltrepo. Gigi no, se ne è andato con una richiesta poi particolare e non poteva che essere così, adesso chiederò anche a Nicola Fronti, cioè lui ha chiesto di essere tumulato con un garofano rosso tra le mani. Oggi alle 19.30 sarà celebrato il rosario nella chiesa di San Paolo di Val di Nizza e domani alle 16 saranno celebrati i funerali nella stessa chiesa. Questo è l'articolo oggi in edicola sulla provincia pavese, ovviamente un fatto che addolora e Nicola, un fatto anche che fa pensare che resta una testimonianza per tutta una vita da portare avanti, da proiettare nel futuro, è una responsabilità anche a fare buona politica per la nostra terra e la nostra gente. Cosa ne pensi? Ma io penso di sì, anche perché Gigi no rappresentava un po' quella che era la politica nobile del nostro territorio. Una persona che al territorio era legato sin dagli anni della resistenza, rischiando la vita proprio per la liberazione del nostro paese, in questa terra, l'oltre poca, la resistenza d'Italia ha dato molto. Dopodiché ha avuto molti incarichi politici importanti e non solo, perché comunque è stato presidente della provincia, poi vicepresidente, assessore dei lavori pubblici, poi è stato sindaco di Val di Nizza, ma è stato anche presidente del politico San Matteo, una delle eccellenze non solo della provincia di Pavia, ma dell'intero paese. E poi senatore della Repubblica, però ieri sera ho letto uno dei tanti ricordi che un amico ha fatto su Facebook della sera della sua elezione e Gigi no la mattina dopo, quando gli hanno comunicato che era eletto senatore, ha continuato la sua vita di sempre, continuando a essere chiamato Gigi no il dutur per il paese dove faceva il medico. E quindi insomma queste sono le persone che fanno quella politica sana e nobile che oggi forse un po' sta andando a scemare. Ma ricordiamo che per l'oltre po' Gigi no è stato protagonista fino a pochi giorni fa, tutti ricordiamo quando il pavese Trebonti era ministro dell'economia, era l'uomo più potente d'Italia, veniva al castello di Oramala e si incontrava con Panigazzi e l'allora segretario della Lega Umberto Bossi al castello di Oramala. E tutto questo veniva poi riportato anche nei giornali in Italia eccetera e quindi anche quello che ha fatto per il suo territorio dopo come per la ristrutturazione del castello ma non solo la promozione e l'amore che aveva per la sua terra, questo credo che sia un ricordo indelebile che rimarrà al di là del suo aspetto politico e amministrativo. Perché era una persona che il proprio paese, il proprio territorio lo amava veramente. Sai qual è Nicola Fronti, grazie di queste parole che sono parole importanti, non retoriche, parole di chi conosceva e di chi voleva bene al compianto Luigi Panigazzi, sai qual è la cosa più difficile quando si deve parlare in queste occasioni incresciose di qualcuno che ci ha lasciato? Non riuscire magari a portare un pezzo di lui agli ascoltatori. Allora io ci ho provato, all'epoca Pavia 1 TV non esisteva ancora, c'era Tele Pavia, un bellissimo programma condotto da Alessio Molla e realizzato con le riprese di Andrea Sala, che fecero tappa poco più di dieci anni fa, stiamo parlando, al castello di Oramala. E allora guardiamo insieme questo breve servizio e poi torniamo insieme. Ed eccoci in un'altra sala dove il dottor Panigazzi ci stava raccontando una storia che ha davvero degli incredibili. Certo poi ci vuole un po' di credenza, ci vuole anche un po' di fantasia se vogliamo, però in fondo chi lo sa che magari c'è qualche cosa di vero, ci diceva che lei stessa è stato testimone di un incontro con due persone, mi diceva vestiti da cavalieri, un cavaliere bianco e un cavaliere nero, che le hanno fatto anche una richiesta scritta di una piccola cortesia. Certo, ecco questa, voglio fare una piccola premessa perché è la camera ritenuta la più importante e quella nella quale sono avvenuti molti, non solo questo ma altri fatti un po', come si dice, con contorno misterioso. È molto semplice, questi due cavalieri entrano nel castello e mi chiedono se per favore li avrei accompagnati a vedere gli altri abitacoli del castello. È il periodo di ristrutturazione naturalmente. Ecco, si capisce. Allora mi hanno chiesto se noi gentilmente avremmo concesso a Vigili di Natale la terza sala della Torre perché avrebbero voluto fare un incontro insieme a tutti gli spiriti dei Malaspina per fare un po' il punto della loro situazione. Noi abbiamo dato questo consenso, ogni anno accendiamo, perché questa è la richiesta, accendiamo questo cammino, accendiamo la luce e lasciamo il castello aperto perché questi spiriti, così credendo che sia abbastanza realizzato, lasciamo aperto e loro riteniamo che ogni volta a Natale vengano in questa terza stanza della Torre per parlare delle loro cose. loro hanno lasciato poi una lettera dove facevano questa richiesta e mi ringraziavano in anticipo se io avessi concesso questa possibilità. Quindi c'è questa lettera redatta da questi due... Da questi due che hanno lasciato giù nella sala grande. Che dopo vedremo. Grazie a tutti. Beh, toccante, toccante perché è un uomo che quando questo servizio è stato realizzato aveva già fatto più lui in una vita di molti altri in dieci o dodici vite eppure la sua creatività, la sua gioia. Oramala il suo castello recuperato insieme al fratello senza un euro di contributo pubblico è diventato un grande laboratorio per pensare al turismo del futuro in Oltrepo. È stato di ispirazione. Per molti è il più bel castello accessibile che abbiamo in Oltrepo. Lo dobbiamo a lui. E lì tutte le leggende, i miti, i fantasmi. sempre però l'amore per la sua terra. Cioè, chi lo faceva fare a Gigino Panigazzi, raggiunta quell'età, i fatti e quelle cose nella vita, di continuare a dare, di continuare a raccontare, di continuare a voler bene al territorio, alla sua gente. Nicola, è un esempio, no? È davvero un esempio. È toccante ascoltare anche lui che parla. anche se non c'è più, probabilmente il suo spirito davvero vivrà per sempre. Sicuramente tra le mura di quel castello e soprattutto in tutto l'Oltrepo per quello che lui ha fatto e per gli amici che lascia. Perché poi questi politici di altri tempi, quelli che facevano la politica non per mestiere ma per passione, oggi come oggi forse stanno andando un po' a diminuire. E quindi questo è un'grossa perdita per il territorio, credo. Anche perché la passione per la politica e l'amore per il territorio c'era quando il politico era radicato nel territorio, no? Non è che oggi venivano letti a Bari e domani a Siracusa e domani a Milano. Loro curavano il collegio ma lo curavano perché erano espressione di quel territorio. E credo che Gigino sia insieme ad altri che ci hanno lasciato e a pochi altri che rimangano proprio un bel esempio di politica sana, di quel che l'Oltrepo ha espresso nel secolo scorso e diciamo all'inizio di questo. Credo anche una cosa che lascia comunque un'eredità politica a chi diciamo gli è venuto dopo. Quindi al figlio Alessandro Panigazzi che è stato sindaco di Silvano Pietra e consigliere provinciale e anche alla mia carissima amica Simona a cui a tutte e entrambe mando un grandissimo abbraccio perché anche loro hanno la stessa passione per il territorio e per la politica che aveva Gigino. L'eredità credo che continui e continui bene. A tutti loro, a tutti i parenti, anche la redazione di Pavia 1 TV e tutta Creativamente Editore porge sentitissime condoglianze. Ci sono uomini Nicola che possono essere salutati, saranno i giorni questi dell'estremo saluto a Gigino Panigazzi ma nessuno li potrà mai sostituire perché lasciano davvero un vuoto incolvabile, starà poi all'oltrepo alla provincia di Pavia, alla politica di oggi, raccogliere un testimone fatto di impegno per il bene comune, quello che dovrebbe essere la politica e mi pare anche di poter dire Nicola, ma lo chiedo a te perché sia tu che tuo papà, il senatore Paolo Affronti, che tra l'altro oggi anche sulla provincia pavese ricorda Luigi Panigazzi, siete anche stati testimoni di una politica, tu per motivi generazionali, degli ultimi forse brandelli di quel tipo di politica, una politica che era fatta di rispetto, una politica che era fatta di rispetto, di dialettica, ma la persona rispettava sempre l'altra persona. Quindi c'era il confronto per il bene del territorio ma non c'era la lotta a prevaricare, anche questo è il messaggio di Luigi Panigazzi, a fare le cose insieme, parlarsi, non avere il padrino che tira i fili ma essere proprio partecipi delle decisioni di un percorso per di territorio. Vorrei una tua considerazione su questo. Ma guarda, questa è una considerazione che avrei fatto io perché ieri quando ho avvisato mio padre che a Roma è mancato Gigino Panigazzi, lui è subito ricordato quello che era un grande uomo, cioè lui Panigazzi era socialista, mio padre era democristiano. Quando Gigino Panigazzi è stato eletto al Senato, visto che c'era un rapporto d'amicizia molto intenso tra i due, nonostante l'appartenenza a partiti diversi, c'era rispetto, allora mio padre gli fece congratulazioni per il suo senato, dicendogli che insomma sarebbe stato veramente un plus per quello che era il nostro territorio e l'oltrepo e lui gli ha detto Paolino ti auguro di varcare presto anche tu la porta del Parlamento. Ecco mio padre glielo ricordava sempre che gli aveva portato bene perché poi qualche anno dopo anche lui entrò in Parlamento. Questo per dire un avversario, un politico perché era di un altro partito che poi, che erano amici però nella vita, ti auguro lo stesso mio successo. Oggi forse questo è quello che manca, il rispetto tra gli avversari politici che noi ricordiamo sempre che non sono nemici e questa è una grande eredità che la vecchia Repubblica ci lascia con questi uomini perché ci insegnano che si lavora dalla propria parte politica per il bene comune e questo hanno sempre cercato di fare, tant'è che negli anni hanno contribuito a fare grande la nostra provincia, a fare grande il Policlinico San Matteo di Pavia che oggi ha un'eccellenza a livello internazionale, l'abbiamo visto nell'ultimo anno anche per la lotta col Covid, lo è stato in precedenza per la lotta all'AIDS e tante altre lotte per la salute. Tutte persone che avevano ricoperto ruoli importanti in Senato, in provincia, in diciamo al Policlinico San Matteo e che hanno sempre lavorato per fare grandi i posti e per lavorare, per amministrare al meglio i posti che occupavano. Non l'hanno mai visti come posti di potere ma come posti di servizio. Questo credo che sia un bel messaggio. Assolutamente sì e poi ricordiamo anche che c'è sempre bisogno in ogni epoca storica di resistenza, di illuminati pensanti, di buone prassi, di valori. Questa è un'altra epoca Nicola che impegna te, la tua generazione e le generazioni ancora più giovani perché tu già, voglio dire, sei un giovane d'esperienza, ti definirai così come consigliere provinciale, come esponente dell'Unione di Centro, come persona che conosce molto bene la macchina amministrativa, la macchina della politica. Ecco, l'insegnamento è non arrendersi alle storture. Quello che si trova storto si può raddrizzare. Panigazzi l'ha fatto per una vita, riaprendo un castello che era diroccato e facendolo diventare una fucina di turismo, facendo grandi cose dal punto di vista politico e anche dell'impegno per il suo territorio. Quindi non c'è da arrendersi a ciò che non va, bisogna sfidare il futuro, vero? Assolutamente, bisogna lottare per le proprie idee perché se non si lotta per le proprie idee o valgono poco le proprie idee o vale poco la persona che lotta e queste persone ce l'hanno veramente dimostrato. Anche in momenti veramente difficili, pensate, in momenti della guerra di liberazione o anche in momenti successivi perché non ci sono stati momenti belli, ci sono stati anche momenti brutti nella vita di Gigino che l'hanno visto anche patire pur avendo servito il territorio. Solo perché in un certo periodo c'era una persecuzione politica verso certi certi politici del passato. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo perché persone come lui veramente hanno cercato e lottato fino all'ultimo per le proprie idee e un bel esempio è lui che dice seppellitemi con un garoppolo rosso perché significa che il proprio ideale non è morto con lui ma vivrà anche dopo con lui. Ci lasceremo proprio su queste parole il tempo giusto per anche salutare Alessandra Bazzardi, segretario del PD di Voghera che ci fa arrivare questo messaggio, un altro pezzo di storia del territorio che se ne va. C'è grande cordoglio in tutto il mondo politico e non solo, il territorio si sente sicuramente un po' più povero, però la forza di battersi per gli ideali e quindi ci salutiamo rinunciando eccezionalmente alla nostra sigla finale e vi facciamo vedere alcune immagini dedicate a Gigino Panigazzi ringraziando Nicola Fronti per averlo ricordato come meglio non si poteva. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, scusate se sono un po' commosso ma avendolo conosciuto per tanti anni non è stato semplice fare un ricordo. Ancora un abbraccio al figlio Sandro e alla nipote Simona. Un caro saluto. 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 Un caro saluto.